Sfruttamento dei lavoratori con retribuzioni in modo palesemente riforme dai contratti collettivi nazionali, violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, pressioni per la rinuncia a parte delle ferie, alle indennità per impiego nei giorni festivi e alle ore di straordinario pena la mancata assunzione ed approvittando del loro stato di bisogno derivante dall'assenza di ulteriori opportunità occupazionali. Con queste accuse risultano indagati due imprenditori del settore della grande distribuzione, amministratori di diritto di fatto di tre società di capitali, una delle quali ora fallite, per il reato di sfruttamento del lavoro ai danni di 79 dipendenti per fatti accaduti tra il 2016 e il 2017. L'operazione denominata Marineri è stata portata a compimento dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, che ha eseguito anche un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamesia Terme, su richiesta della Procura della Repubblica, per una somma di danaro e per beni, per un importo di 665 mila euro nei confronti degli indagati delle società per i quali è stata ipotizzata la responsabilità amministrativa. L'operazione Marineri rientra in un più ampio progetto investigativo sviluppato dalla Procura della Repubblica di Lamesia Terme, in sinergia con il locale gruppo della Guardia di Finanza, attraverso il quale si intende contrastare il pervasivo fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori.